eh ascolta a finire di mangiare o no? a finire di mangiare o no? in mezz'ora stanno aspettando perché mi hanno detto guarda c'è la fila appena si riprende un posto ci si manda fino a passarsi a uno in mezz'ora che guardo da lì stiamo già mangiando la pasta, stanno pensi che a letto, ma può mangiare ancora? io lascio un po' in mezzo, non è rimasto un pezzettino di fintura, tu non hai gatto, tu prendi il caffè, vai in bar e prendi il caffè e deva te dirlo e morti, io c'ho la bambina in macchina ti ammazzare la fe, ti ammazzo io ma quale ammazzare? oh calma, calma eh, mi va a prendere? perché io non me lo togli, tu prendi il peggio culo, io devo stare calmo, ho anche i pesmecheri pesmecheri che lo spengono le bravi pesmecheri, ma quale pesmecheri? ma quale pesmecheri? o ecc, calma, guarda questo, guarda questo, ma tu mi vuoi da fare una mossa? ma guarda questo ora questo mi mette anche fuoria, no no io devo stare calmo, me l'ha detto il dottore stare calmo, fare le cose con calma, ora, ora, io mangio con calma come lo fare a me guarda questo, guarda, guarda, come a ... guarda Che sei ancora qui? Ma che sei ancora a rimangiare? E ora sta a finire! Ascolto, sai che hai questo vino? Questo non è un teso! Quello dalla scossa! No, no, no! Io ho il costo! A me è importunato che tu hai, anche io ho il costo a cazzo! Io ho un cane, ho un gatto, ho molti affari! Ognuno ha il che c'ha! Tu la costi! Ti devo la scossa! No, no, no! Aspetta! Oh, forza! Tocca a noi! Forza! Vieni a sparecchiare! Oh, andiamo! Perciò che non esi più devia aspetta! A poco' è preso che prima il tempo inteme provato a mettere il 소�ânio a poco !